Gentili telespettatori, buona giornata. I questori della Camera avvertono che chi si presenta senza Green Pass non può entrare alla Camera e così non potrà votare per l'elezione del Presidente della Repubblica, la partita per il Quirinale. Inevitabilmente il contesto della pandemia influirà sull'organizzazione della partita al Quirinale perché anche quelli che saranno positivi dovranno stare a casa e non potranno partecipare. Pertanto raggiungere i quorum con le assenze da Covid sarà difficile anche quello. Intanto a fare chiarezza su quello che vi raccontavo è Francesco Duva, questore della Camera che all'ADN Cronos ha spiegato le condizioni per accedere. regolarmente in aula per esprimere la propria preferenza per il Capo dello Stato. Dice così il questore per accedere alla Camera sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e sarà necessario esibire il Green Pass, cosa che tra l'altro è già necessaria da ottobre così come in tutti i luoghi di lavoro. Insomma chi non sarà munito di certificato verde basico, quello che si ottiene sia per vaccinazione che per varigione ma anche con l'esito del tampone negativo rischia di non poter prendere parte, anzi non è che rischia, non può prendere parte alle attività delle commissioni né a quelle in aula. Di fatto sarà escluso. Però naturalmente al deputato non gli si sospende lo stipendio come agli italiani, no? Al deputato solo non lo si fa entrare. Ma di fatto sarà escluso perché la disciplina prevede che se un deputato si presenta senza Green Pass non può entrare alla Camera, ha rimarcato Duva, il questore, il questore capo della Camera. La seduta è stata fissata per la prima votazione del Presidente della Repubblica, potrebbe essere la prima e l'ultima, però si presume che si arriverà chissà quante votazioni. È lunedì 24 di gennaio, quando inizierà ufficialmente la partita per il Colle. Parallelamente ai contagi crescono anche i timori delle forze politiche e degli addetti ai lavori, che stanno valutando tutte le possibili misure da mettere in atto per garantire un voto in sicurezza. Alcune decisioni saranno inevitabili. Intanto si fa una sola votazione al giorno. Quindi se si comincia il 24 la prima votazione, il 25 la seconda, il 26 la terza e si va al 27 per la quarta votazione. Quindi una votazione al giorno, che toglie il medico di torno, e l'ingresso in aula sarà contingentato secondo slot di orari. Quindi i primi 50 si presentano in questa mezz'ora, quindi sarà anche un voto scaglionato, con orari prestabiliti, in base alla lettera di chiama, cioè tutti quelli che cominciano con l'A, B, C. Ecco, una logica per evitare quanto più possibile le situazioni di assembramenti. Il questore della Camera ha spiegato che in tal modo verrà garantita la sanificazione quotidiana degli ambienti e di tutto ciò che risulta necessario per garantire l'ordinario espletamento delle procedure di votazione. Ovviamente l'andamento della curva epidemiologica dei prossimi giorni potrebbe portare a prendere in seria considerazione un'ulteriore stretta, un'altra batteria di nuove norme per tutelare i grandi elettori, e che però sarà oggetto di un approfondimento nei prossimi giorni, alla luce degli ultimi dati. All'inizio della prossima settimana i sei parlamentari questori potrebbero incontrarsi informalmente per fare di nuovo il punto della situazione. Si sta circolando ultimamente l'ipotesi di far slittare di qualche giorno il voto del Presidente della Repubblica. Però che serve di qualche giorno? Perché se fai slittare di 3-4 giorni i contagi spariscono? Beh, non è al momento all'ordine del giorno e dice continuiamo a mantenere alta l'attenzione a mettere in atto tutta la prudenza e la serietà che ci hanno permesso, fino ad oggi, di evitare che la Camera dei Deputati si trasformasse in un cluster. Il voto a distanza sembrerebbe non possibile, perché c'è chi chiede questa opzione di votare da casa, per garantire a quei grandi elettori che dovessero risultare positivi al coronavirus. Duva però in merito è stato chiaro e non si è detto ottimista per una soluzione di questo tipo, dicendo che la giunta del regolamento ha escluso in questi due anni il ricorso al voto a distanza per le votazioni ordinarie. A maggior ragione mi sembra una strada difficilmente percorribile per l'elezione del Presidente della Repubblica, che vede il Parlamento riunito in seduta comune con la presenza anche dei grandi elettori. Quindi vedremo come finirà questa elezione, perché uno dei problemi proprio dell'elezione del Presidente della Repubblica è il rischio che teme più Berlusconi che i grandi elettori vengano depennati dal virus, che probabilmente lui è già d'accordo con molti grandi elettori che gli avranno promesso fedeltà. Bene, intanto questo ve lo racconterò poi in un altro video, ma diciamo che l'elezione del Presidente della Repubblica presenterà uno spartiacque deciso nella politica italiana, perché se dovesse vincere Draghi, Berlusconi dice che lascia il governo per tentare di farlo cadere, se dovesse essere eletto Berlusconi, il PD colletta dice che un minuto dopo cade il governo, insomma sembrerebbe che il governo sia destinato a cadere, poi ci sono le voci su Salvini e la Lega che sarebbero stufi, che vorrebbero uscire da questo governo. Vedremo quello che succederà. Sta di fatto che l'elezione del Presidente della Repubblica è un grande spartiacque, proprio nel mezzo di questa pandemia che sta riprendendo forza con queste varianti che poi sono più contagiose ma meno cattive, però ancora è tutto da valutare, perché l'estrema contagiosità comunque porta a riempire lo stesso le terapie intensive. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Siamo poi anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, dove trovate i video di Teleitalia e poi dell'altro mio canale, Teleitalia Seconda Rete. Trovate questi video condivisi appunto in Facebook, pagina Teleitalia, dopo qualche ora, in modo che se vi sono interessati li potete condividere a vostra volta sui vostri profili. Grazie nuovamente per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.